Oggi vorrei puntare l'attenzione sulle società di revisione dei conti. Sono quelle che certificano i bilanci e dovrebbero essere le sentinelle di un mercato che spesso non conosce regole e che nasconde fra le pieghe dei bilanci lo schema nove per far arricchire i titolari di questa o quella azienda. Esempio più accretante è stato Lehman Brothers, società che gli analisti stimavano fra le più solide al mondo e che si è rivelata invece un autentico con la Broda, dando inizio a una delle crisi più devastanti dell'economia mondiale. Oggi ci troviamo di fronte allo scandalo War Card. Si tratta di una società tedesca che gestisce le transazioni di diverse carte di credito, fra cui la nostra Sisal. Ebbene, si è scoperto che i vertici avevano nascosto perdite per circa 2 miliardi di euro. Immediate le reazioni della borsa tedesca, il titolo ha perso addirittura il 70% in una sola seduta e oggi è ormai spazzatura. Di fronte a questo disastro, come si è comportato il governo della signora Merkel? Ha accusato neanche troppo implicitamente Ernst & Young, la società di revisione dei bilanci, di negligenza e ha subito messo le mani avanti, invocando un più stretto controllo delle società da parte della Bafin, l'ente di vigilanza dei mercati. Mossa astuta nel tentativo di salvaguardare proprio la Bafi, che nella vicenda War Card ha sicuramente molte colpe, insieme a Ernst & Young. E in Italia? La situazione è abbastanza simile. Chi non ricorda Parmalat? Era una società modello. Le sue obbligazioni erano vendute a retail come affidabili e sicuri al 100%. Sappiamo tutti com'è andata a finire. Oggi è targata l'Actalis e i possessori dei vecchi Bond Parmalat sono ancora lì a leccarsi le ferite. Per non parlare poi di Ferrarini, oggi è le prese con due concordati in bianco, in una vicenda che non sembra avere mai fine. Insomma, tutto il mondo è paese, forse il nostro più di ogni altro. Buona giornata a tutti.